Chemigen, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. A Rieti e in tutto il centro Italia. Esperienza e qualità da oltre 40 anni. Acqua di Fonte Cottorella. Dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Big Mat ed il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabricanti. Sognare, inventare, costruire. Tieni d'occhio la tua vista. Per la salute dei tuoi occhi, affidati a Ottica Serafini. Eccoci, eccoci tornati. Prima puntata della Rana nel Pozzo. Prima puntata della quarta edizione. Ci stiamo invecchiando un po'. Liedi Live TV, nuovo palinzesto. Avete avuto modo di vedere, di scoprire tutte le trasmissioni che ci sono in questa nuova stagione. e ce ne saranno altre, ci sono delle novità che piano piano vi sveleremo. Allora, prima puntata, primo ospite, il sindaco Antonio Cicchetti. Come sta? Salve, bene. Molto bene. Ho detto ci siamo invecchiati, però ho parlato per me. Perché? Ruit ora, dicevano i latini. Ecco. Quindi andiamo avanti, che dobbiamo fare? Allora, ha visto qui, abbiamo rinnovato un po' tutto. Complimenti. Grazie, grazie. Ci sono state le elezioni, partiamo subito un po' dal nazionale, ma anche locale, perché dieci comuni hanno votato anche qui nella nostra provincia. Ovviamente sono state amministrative, ma un risvolto politico, insomma, come abbiamo potuto vedere, c'è stato, no? Che cosa ne pensa? Come è andata questa tornata elettorale? Quella nazionale ha riportato ciascuno a cassa propria. Non capisco i gridi di gioia pronunciati da Letta che magnifica una vittoria del PD che non c'è stata. sostanzialmente, Milano era governata dal centro-sinistra, Roma era governata dalla Raggi, che non era di centro-destra, Torino era governata dalla Appendino, che non era di centro-destra, Bologna mi pare che è storicamente collocata da una certa parte, Napoli è una città nella quale ha sempre governato il centro-sinistra, dal 1993 in poi, cioè da quando ci sono le elezioni con il candidato sindaco che viene posto in evidenza. Dove sta questa vittoria? La vittoria sta nel fatto che il PD ha fatto spesa ai danni del Movimento 5 Stelle o forse ha riportato a casa qualcosa che aveva perduto e che era andato verso il Movimento 5 Stelle come forma di radicalizzazione politica. Oggi si è ripreso una parte di quei voti, quindi non credo che ci sia una grande vittoria della quale vantarsi, come ho sentito in questi giorni. Poi vedremo nei ballottaggi quello che accadrà. Però Salvini ha messo una sorta di sconfitta, no? Questo è un altro paio di maniche. All'interno della coalizione di centro-destra si sono sbagliate alcune candidature e per di più sono state lanciate con grande ritardo. Questo col massimo rispetto per i candidati. Non si candida a Milano un pediatra bravo, amato, ma una persona che con la politica non ha mai avuto a che fare. E lo si candida peraltro a un mese e mezzo dalla celebrazione delle elezioni. C'era qualcuno che non lo conosceva proprio. Un errore clamoroso. A Milano c'era Albertini che aveva fatto il sindaco per due mandati consecutivi e poteva essere il candidato per battere o provare a battere Sala. A Roma Michetti, del quale sono buon amico, però non si lancia all'ultimo momento. Però Michetti insomma ha portato un risultato. Michetti ha portato un buon risultato. Adesso vedremo come finirà la partita. Ma a Roma c'era una sicurezza di vittoria e era quella di Giorgia Meloni, che si è sottratta a quello che secondo me era un dovere, un obbligo. Perché quando c'è una situazione del genere, l'uomo politico ha l'obbligo di lanciarsi. La maggior parte dei politici presidenti del Consiglio francesi sono passati attraverso la carica di sindaco di Parigi. In Italia viene considerata una diminuzio. È un errore clamoroso. Se avessimo candidato Giorgia Meloni avremmo al primo turno il sindaco di Roma. Però lei non ha mai preso in considerazione questa cosa, anzi ha detto io non voglio fare il candidato, perché ha altre ambizioni evidentemente. Le ambizioni sono una cosa, il senso di responsabilità politica è l'altra. Una responsabilità politica nei confronti di una coalizione che può vincere a certe condizioni, mentre può perdere o avere delle battute d'arresto in altre condizioni. Quindi ha messo avanti le sue ambizioni personali. Secondo me è probabile, ma è una cosa che io non condivido. Come non condivido il fatto che si debbano mobilitare cosiddetti uomini civici in una campagna elettorale che riguarda le grandi città italiane. Io credo che nella capitale d'Italia si dovesse candidare una persona che ha caratteristiche connotate, politici piuttosto evidenti. Ma se non si candidano nella capitale d'Italia dove dovrebbero candidarsi? Analisi condivisibile. Non ho sentito nessuno che ha parlato così. Perché molti non hanno questo senso della libertà di giudizio. Io ce l'ho. Credo che quando si parla di una capitale bisogna mobilitare l'uomo politico. E l'uomo politico più accreditato per la vittoria era Giorgia Meloni. Il fatto che lei si sia sottratta secondo me non è un punto a suo favore. Lo dico senza tema di essere smentito e soprattutto senza riguardi per nessuno. Però magari lei pensa di avere un partito tra i più votati in Italia. Magari tra qualche anno ci saranno le elezioni. La sua ambizione era quella di governare l'Italia piuttosto che Roma. Ma guardate che governare Roma è un atto di grande devozione alla patria e è un atto di grande soddisfazione. A Roma i cittadini conoscono il Presidente della Repubblica, il Sindaco e il Papa. Questa è la realtà. E fino a qualche anno fa Totti anche. Ma questo fa parte del bagaglio non politico. Affacciarsi sui fori imperiali, e io credo che sia una soddisfazione difficilmente comparabile con il denaro che può avere un parlamentare mentre non ha un sindaco. Ecco, affacciarsi lì, discutere parlamentare con gli ambasciatori di tutto il mondo che sono accreditati a Roma, parlare con il Papa, parlare con il Presidente della Repubblica. Io credo che sia il massimo. La maggior parte dei ministri che hanno un loro nome sono ignoti al grande pubblico. Non è ignoto il nome del Sindaco di Roma. Quindi credo che sia stata sbagliata l'operazione e peraltro tardiva. E il suo amico Michetti però ha possibilità? L'amico Michetti è una persona perbene e competente, ma doveva essere lanciato mesi prima. Ripeto che per me la linea principale era quella della candidatura. Sì, forse la pandemia però ha ritardato un po' questi processi. Ma no, non è un problema di pandemia, è un problema di piccole gelosie, è un problema di sorpassi. Io non condivido il discorso noi arriviamo primi, quegli altri arrivano secondi, perché poi si arriva primi e si perde la partita. Quindi rischia di perdere Michetti? No, i rischi sono concreti. I rischi sono piuttosto robusti. Michetti è una persona perbene, competente in materia di enti locali come avvocato, tant'è vero che noi l'abbiamo nominato senza sapere che poi si sarebbe candidato al Comune di Roma. È un nostro consulente. Però proprio per questo, per il rispetto delle persone, non si lancia la gente in avventure così incaute. Anche i Gualtieri comunque, non è l'ultimo arrivato. No, ma io non discuto. Io dico che non si fanno queste operazioni. Tutto chiaro. Abbiamo sentito tanti, tanti pareri, tante analisi, ma da un esponente del centro-destra questa sua analisi la trovo inedita e da una parte le fa anche onore perché ha detto che lei è libero. Magari altri non lo hanno fatto. Come sempre. Esatto, per questo. Sono nato libero. Ok, ok. Torniamo a Rieti. A Rieti in provincia, dieci comuni, com'è andata? Ma bene, abbastanza bene. Insomma, non c'è stato quel movimento tellurico che forse qualcuno poteva aspettarsi. Il problema è che, insomma, quando parliamo dei comuni della provincia di Rieti, parliamo di un angolo di strada di Roma. Gli eventi grossi si misurano anche dai numeri, gli eventi importanti. E indubbiamente l'attenzione non era sui piccoli comuni, ma era sui comuni grandi. Sì, sì, sì. Comune grande, mi viene in mente Rieti. Beh, Rieti è un comune medio piccolo. Come capoluogo è un comune medio piccolo. E quindi, adesso, tra un anno, ad esempio, lei che farà? Si vota. No, si vota un po' prima, diciamo. Si vota. Si vota un po' prima di un anno. Sì, esatto. Cicchetti, tra un anno, sarà qui ospite alla Rana del Pozzo? Speriamo. Vuol dire, insomma, che è svaluto bene. Quali vesti? Se vi vorrete ricordare di me, io sarò sempre disponibile a venire a parlare e a discutere di politica, di amministrazione. Questo sarà sicuro, ci ricorderemo di lei. Ma in quale veste sarà seduto qui tra un anno? Quella che vorrete voi, perché non sarò più come sindaco, sicuramente. Il mio mandato è a scadenza e quindi ci sarà chi mi sostituirà. Perché la scorsa volta anche qui alla Rana ha detto, io non mi ricandido. Sono sempre di questo parere. Non c'è nulla? Credo che sia necessario ringiovanire la classe politica. Questo era l'impegno che io avevo preso nel momento in cui mi candidai. Era un'operazione difficile perché candidarsi contro un sindaco uscente e più giovane era un'operazione difficile. Quella partita l'ho vinta, ma con l'impegno chiaro di passare la mano a una nuova classe dirigente che nel frattempo abbiamo messo in campo. E non c'è nulla che la possa far tornare indietro. Chiedo. Perché dovrei tornare indietro rispetto a questa prospettiva? Io credo nell'avvicendamento, credo nel ringiovanimento della politica. Però non si può dire, credo nel ringiovanimento della politica e poi rinominare per esempio un Presidente della Repubblica di 93 anni. Bisogna essere conseguenti. Io credo di essere conseguenti in tutti i miei atteggiamenti. Bene. Chi sarà il Presidente della Repubblica? Non lo so. Dicono Draghi, le ultime voci. Potrebbe essere una personalità degna di riguardo e considerazione. Ma non è per mandarlo. Ma non si sa quello che succederà. Ci vai a fare il Presidente della Repubblica così ti togli dalle scatole dal Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica dipende da come viene interpretata dal personaggio che si trova ad incarnare la carica in quel momento. Perché ci sono stati Presidenti della Repubblica molto attivi, molto presenti. Io vorrei ricordare Cossica per esempio. Era un interventista sul piano della politica italiana. Altri sono stati più dimessi, più modesti, di più basso profilo. O hanno cercato, non qualitativamente, hanno cercato di mantenere un profilo più basso. Il picconatore, ricordiamo. Il picconatore. Esatto. Ha portato con sé quanti segreti, Cossica. Tanti. È stato Ministro degli Interni. In tempi caldi. Ogni Ministro degli Interni qualcosa lo porta dietro. A quei tempi ancora di più. E a quei tempi ancora di più. Ancora di più. Va bene. Allora, questa è già una notizia che ha confermato, che sapevamo. No, diamo la notizia anche al centrosinistra, ad esempio, che secondo me non sa ancora contro chi scontrarsi, insomma, perché da rumors sempre quello che si dice è che lei potrebbe essere un candidato, invece. Ma io non voglio essere strumentalizzato tanto più dalla sinistra. Io ho preso una posizione. Perfetto. E la mia posizione rimane quella. Non si può giocare dietro il mio nome per imporre una candidatura dall'altra parte. È un po' come nel calcio, come fanno gli allenatori. Già so la sua risposta. Però alcuni allenatori adattano il proprio modulo anche in base all'avversario, no? Sì, ma... In politica non funziona così o sì? Sì. Ma anche in politica funziona così. Però nel momento in cui uno fa un'esternazione, si ha il dovere di prenderla sul serio. Soprattutto se nel corso di un'intera carriera politica il soggetto ha sempre mantenuto fede a quello che ha detto. Però l'allenatore del centro-sinistra, insomma, è un conto se si trova davanti i cicchetti e è un conto se si trova davanti i grillotti, insomma, cambiano. Grillotti non è candidato. No, assolutamente no. Però questo vuol dire... Va bene, va bene. Saremo a vedere. Nel centro-sinistra a lei non gli interessa niente? La preoccupa? Io dico che il centro-sinistra dovrà presentare uno o forse più candidati, come ha fatto in alcune circostanze, per esempio Roma. Però non è affarmi io, è un problema del centro-sinistra. Perfetto. Non ho mai pensato che fosse cosa buona infilare il naso nelle questioni altrui. Perfetto. Mi tengo a distanza, è un problema loro. Lei è un po' il Pep Guardiola della politica, lei impone il suo gioco, senza pensare agli altri. Certo. Non c'è un nome che può incudere timore del centro-sinistra? Non mi pare. Non mi pare. Sanno un po' in ritardo, secondo lei? Ma sempre a far loro, eh. Sempre a far loro. Allora, torniamo a noi. Sì. Ecco qui. Torniamo alle vicende dell'amministrazione comunale. Come sta andando? C'è qualche polemicuccia ultimamente, mi viene in mente Viate Seider, qualcuno l'ha paragonato, ha visto anche un suo intervento su Facebook al famoso Cedro. Che ci dice di quello? Non c'entra niente il Cedro, perché del Cedro non c'era nessuna previsione di abbattimento. Qui c'è un progetto approvato da tutti gli organi competenti, compresa la soprintendenza, nella quale è previsto l'abbattimento di alcune piante numerate e elencate che sono malate, fradice e che vanno sostituite. Dopodiché c'è un aumento addirittura della presenza delle piante. E questo progetto non solo è stato approvato dagli organi competenti all'interno del Comune, ma è stato approvato anche dalla soprintendenza paesistica del Lazio. Quindi siamo molto tranquilli. L'abbattimento del Cedro, che era una pianta sana, non era previsto da nessuna parte. Ecco, cominciamo a mettere le cose in chiaro. Bene. Lei ha il terzo mandato questo, se non ricordo male. È più faticoso questo degli altri due? Insomma, questo è stato un mandato contrassegnato non solo da una crisi economica piuttosto virulenta, ma anche da altri fattori, tipo le conseguenze del terremoto, tipo la pandemia. Insomma, non ci dimentichiamo che durante il periodo della pandemia eravamo in 40 persone, compresa la Giunta, a lavorare in Comune. Perché chi era in smart working, chi era in malattia, è stato piuttosto impegnativo lavorare in queste condizioni. Sì, immagino, immagino. Per quanto riguarda il progetto di città, tutti parlano, no? Il progetto, la città futura, Riedi Futura, Riedi Futura poi tra l'altro è un'entità politica. Che ne pensa? Qual è il suo progetto? di città, senza specificare quale è. Questa idea di città diventa un elemento, direi quasi, adatto a incutere timore in chi ti ascolta. Ma quale è st'idea di città? Chi ce l'ha dei nostri contraddittori un'idea di città? Noi la stiamo dipanando passo dopo passo attraverso un'azione amministrativa attenta. Avevamo detto che il discorso delle aree industriali si sarebbe affrontato, si sta affrontando. Tutti gli impegni che avevamo preso si stanno portando a compimento. C'è qualche ritardo, sicuro. Ma bisogna anche capire in quale paese si vive. Perché per vivere in Italia ci vorrebbero due esistenze. Una per vivere e una per attendere. Il problema è mettere insieme le due cose. La vita è comunque una. Sono cose che io dico a tutti quelli con cui mi capita di parlare. Soprattutto quando parlo con persone che esulano dal livello del Consiglio Comunale. e quindi parlo dei deputati, parlo del commissario Legnini, il quale si è reso conto che con il sistema del codice degli appalti non si va da nessuna parte. Bisogna rivedere tutto. Perché qui tra impostare, ideare, progettare, approvare e realizzare passano gli anni. Ma questa è conseguenza di normative con le quali non c'entra niente la burocrazia. La burocrazia è il corpo intermedio che è chiamato ad attuare i regi. Dipende da quello che gli mettiamo in mano alla burocrazia. Se alla burocrazia mettiamo in mano un piatto di lentocrazia è un conto. Se mettiamo in mano un piatto di sveltezza è altro conto. Quindi la burocrazia è un fatto necessario per poter dirigere una nazione. Ma è il Parlamento che formula le leggi che sono alla base di quella paralisi che si registra in Italia. Noi stiamo correndo con i piedi incatenati l'uno all'altro. Mentre paesi come la Cina corrono ad una velocità straordinaria. I risultati poi si vedono. In Cina fanno un ponte sul mare di 58 km in tre anni. Noi qui in tre anni non riusciamo nemmeno ad approvare un progetto. Allora o si prende cognizione di questo. O è destinata a fallire qualsiasi speranza. Noi abbiamo bisogno di riaccendere la speranza nel popolo italiano. Però è il Parlamento che deve decidere. Perché è il Parlamento che ha il pallino in mano. Così come quando parliamo di fenomeni tipo droga. Si dice ma i carabinieri fanno gli arresti e i magistrati liberano. Le leggi le fa il Parlamento, non le fanno i magistrati. I magistrati le applicano. E i carabinieri si trovano in difficoltà perché oggettivamente arrestano una persona. Dopo una settimana gli passa loro davanti e fa lo sberleffo. Le applicano o cercano di applicare. E' certo. Allora il tema è questo. Il tema è questo. E' il Parlamento che leggifera. E' il Parlamento che deve liberare l'Italia dalle catene dalle quali si trova avvolto. Avvolta. E questo è anche un po' che è più facile fare. La riporto in politica questo discorso. Più facile fare l'opposizione che governare. E' più facile lì. Si può cantare sempre. Possiamo dire tutto. Lì si può cantare. C'è un signore che scrive. Bisogna mettere più vigili in strada e più netturbini a pulire. Sì ma con quali soldi? Cioè qualcuno che dovrebbe capire di questa materia. Si esercita a scrivere sciocchezze di questo tipo. Quante sciocchezze legge al giorno? Tante. Tante. Bisogna capire che stiamo parlando di un comune in predissesto. In cui bisogna misurare ogni sforzo. Un comune nel quale bisogna moderare anche la richiesta. Perché è chiaro, i cittadini chiedono sempre tutto. E la premessa di tutti è dire noi paghiamo le tasse. Poi magari nell'80% dei casi non è vero. Perché se no non ci capiterebbe. Staremo meglio. Non ci capiterebbe di dover riscuotere qualche decina di milioni. Per i quali ci stiamo attrezzando in termini di recupero. Mi vengono in mente delle cose. Passaggio a livello. Gli Alemaraini. Gli svincoli. Il piano del traffico. Com'è la situazione? Allora. Si porta in discussione lo zuccherificio. Quindi lo zuccherificio costituirà un fatto importante per questa città. un impegno a concludere da parte di questa maggioranza. Naturalmente quello comporterà una serie di riverberi sul traffico. Si, si, si. Ma che ci sarà al posto di oggi? Si fa il piano del traffico e in conseguenza si vedrà la questione dei sottopassi. Ma c'è qualcuno che possa pensare che al momento in cui arriveranno i famosi treni bimodali e quindi aumenterà notevolmente il traffico dei treni, si possa stare in continuazione in fila in Viaremaraini? D'altra parte è un sogno non realizzabile quello di dire spostiamo la ferrovia. ci abbiamo provato mille volte, ma abbiamo trovato il muro impenetrabile da parte di Ferrovie dello Stato. Non era del tutto sbagliata come idea e come ipotesi. Ma è un discorso finanziario. Chi lo fa? Se chi dovrebbe farlo non è disponibile a farlo. Non è opera che possa essere realizzabile dal Comune di Rieti, perché l'impegno finanziario è colossale. Ora, che cosa si è fatto e che cosa ha riaperto un po' la polemica? Ci sono dei contributi per Rete Ferroviaria Italiana per la chiusura di alcuni passaggi a livello. Rete Ferroviaria Italiana è disponibile a progettare alcune ipotesi che poi andranno al vaglio del Consiglio Comunale. Non sta bene via Le Maraini, si farà un'altra cosa, ma una delle cose importanti sulle quali nessuno si sofferma è che siamo riusciti a mettere in questo pacchetto anche il famoso sottopasso di Via Fundania, quello dove si incastrano sempre i pullman, il che potrebbe già determinare un cambiamento del traffico a Rieti. Quindi i passi sono urbanistica con le previsioni sullo zuccherificio, su Via Borrara, piano del traffico, piano proposto da Ferrovie dello Stato. che sempre il Consiglio Comunale dovrà approvare, non è che ci sono colpi di mano, ci sono proposte, si varieranno, altrimenti si dirà questo non va, gli altri vanno bene e il Consiglio Comunale si pronuncerà. È sempre il tempo che fa la differenza, anche questa è lunga. Anche questo certo. A proposito di idea di città, lo zuccherificio, la domanda che stavo facendo prima, che ci sarà lo zuccherificio? Che cosa vedranno i reatini? Lo zuccherificio, che non può rimanere così, ne può essere oggetto di un'ulteriore campagna elettorale per continuare a dire c'è lo zuccherificio, basta. Che facciamo allo zuccherificio? Lo zuccherificio può avere una parte di commerciale e una parte di abitativo. Adesso le due proprietà si stanno attivando per presentare dei progetti che poi andranno in Consiglio Comunale. Quindi tutto quello che succederà, compresa l'area della Viscosa e della Montecatini, passerà per il Consiglio Comunale. Abbiamo qualche idea però. Ma le idee, per esempio la Viscosa è una parte del Monte dei Paschi, avremo una riunione con Monte dei Paschi in settimana prossima, noi abbiamo chiesto a questa banca, che magari è un po' debitrice nei confronti degli italiani, per tutto quello che ha saccheggiato, diciamo, abbiamo chiesto di dare un terreno per i Vigili del Fuoco che ne hanno bisogno. Perché quella attuale caserma non è più in condizioni di essere a norma, né di essere messa a norma. E il demanio dello Stato ha un terreno piuttosto grande, ma a Campomoro. Ora, mettere i Vigili del Fuoco a Campomoro significherebbe realizzare un ottovolante da Luna Park. Quindi i Vigili del Fuoco potrebbero andare in quella zona? Potrebbe essere un'ipotesi. Naturalmente bisogna parlare con i proprietari, uno dei quali è il Monte dei Paschi. Allora, tutto questo sta andando a maturazione, tutto questo sta per andare in commissione. Quindi tutto passerà attraverso il Consiglio Comunale. Seguiremo i lavori, seguiremo, vi seguiremo. Senza colpi di mano, senza niente. Qui c'è qualcuno che sono quattro anni e mezzo che dice sempre no. Possibile che questa amministrazione non abbia fatto una cosa condivisibile. Una. C'è qualcuno che dice sempre no. e trova motivazioni spesso comiche, a sostegno delle proprie tesi. È solo l'opposizione per l'opposizione, non l'opposizione collaborativa nell'interesse della città. Hanno realizzato in questi quattro anni e mezzo soltanto confusione. Bene. E distrazione. Siamo quasi in chiusura. Noi siamo a disposizione ovviamente anche dell'opposizione perché la rana nel pozzo, insomma, ospita diversi personaggi politici e non solo, tratteremo anche aspetti economici, sociali. Insomma, la rana la conoscete, useremo anche un linguaggio abbastanza accessibile e semplice come abbiamo fatto oggi e come fa spesso il sindaco. Libero soprattutto deve essere il linguaggio. Da parte nostra sicuramente. Educato e libero. Su questo siamo d'accordo. Quindi a Riedi Life, comunque le porte sono sempre aperte, diamo voce a tutti. Ma certo. E ci sarà, mi sembra, una sorpresa. Prego. Ci sarà una telefonata, io credo. Sì. Aspettiamo se... Ha visto? Io adesso le passo il telefono rosso. Un problema se... Quello di Putin. Diciamo che è Bordeaux. Allora, questo è il telefono. Qui, puoi alzare la cornetta. Questa è la telefonata per lei. Pronto. Chi vorrebbe che ci sia dall'altra parte? Beh, io vorrei un cittadino, perché il mio rapporto è con i cittadini. Vorreste... Un cittadino che riconoscesse lo sforzo fatto in questi anni. Quindi a chi era il telefono? Un cittadino. Tante volte, sì. Tante volte... Mi era attaccato però, magari mettiamo così. Tante volte, anche se non si è potuto raggiungere l'obiettivo completo, così come era previsto. Ma lo sforzo di questi anni è stato veramente titanico. Perché un comune in predissesto, un comune nel quale alcune persone che vincono il concorso alla regione se ne vanno o se ne vanno all'Agenzia delle Entrate. Un fenomeno tutto italiano perché per fare le stesse cose tra il comune e altri enti ci stanno 500 euro di differenza in media al mese. E naturalmente non si può impedire a un padre di famiglia di guadagnare 500 euro al mese in più di questi tempi. Quindi anche un po' una sorta di terremoto dal punto di vista burocratico. Io pensavo, non so, volesse una telefonata di qualche politico, di qualche... No, a me i cittadini, a me interessano i cittadini. Cittadini, grazie. Raramente, raramente... Sto ringraziando che l'hai chiamato. Ma poi lei, insomma, fa una trasmissione storica. Sì, sì, certo. Quindi è abituato a ricevere. Potreste farla anche voi, io sono sempre disponibile. Io sono sempre disponibile, chiunque mi chiama, sto a disposizione. Mettiamo in contatto l'ufficio stampa con la redazione e parliamo. Esatto. Ora il sogno è questo. Riuscire ad avere con il cittadino un colloquio tale per il quale si capisca quali sono state le difficoltà terribili di questi anni. Alle quali abbiamo risposto anche con misure drastiche che riguardano l'amministrazione comunale. La nostra giunta è inferiore a quella precedente, di un assessore. I nostri assessori non hanno cellulari pagati dal comune. Anche prima però c'era qualche cosa del genere. Un assessore di rappresentanza, ne abbiamo rimandato indietro una. Non ho una lira di spese di rappresentanza come sindaco. Se io vado a trovare una signora centenaria per farle gli auguri, ordino e pago i fiori. Allora, abbiamo cercato di stringere i freni in tutte le maniere. Vorrei che almeno questo ci fosse riconosciuto. Abbiamo pagato milioni di debiti. Quindi stiamo rimettendo in sesto anche l'amministrazione comunale. Siamo in chiusura. Chi verrà dopo starà molto meglio di come sono stato io. Sicuramente ci saranno reazioni a questa puntata da parte dell'opposizione. Noi siamo a disposizione, come saremo a disposizione anche dell'amministrazione. E noi saremo pronti a rispondere. Perché qui non c'è un argomento sul quale non siamo convinti e non abbiamo carte per poter dimostrare. Esatto, la civiltà è l'educazione. Quello che ha detto lei prima io lo sottoscrivo. Non la trovo su Facebook questa civiltà ed educazione. Questo è un problema... Vedo un linguaggio truce. È un problema generale. Vedo un linguaggio truce del quale mi rammarico. Perché non ho mai visto un modo di scrivere così basso, squallido, infame, direi. In molte occasioni è così. Grazie Cicchetti per questa prima puntata. Com'è stato? Bene. Bene. E continuo a mantenermi bene anche dopo. E ci mancherebbe altro. Avremmo modo di riparlare. Io vi ringrazio a tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori, anche da parte mia. Dobbiamo ringraziare gli ascoltatori, dobbiamo ringraziare chi ci supporta, gli sponsor. Grazie a tutti. Senza di voi non potremmo stare qui e non potremmo... E anche chi ci sopporta. E qualcuno ci sopporta anche. E noi, grazie agli sponsor, che possiamo garantire quella libertà di cui parlava anche il Sindaco. Non avendo contributi pubblici, contributi di ogni tipo. Non abbiamo niente nemmeno noi, Sindaco. Paghiamo i fiori da soli anche noi. Per cui, grazie a tutti. Seguite tutto il palinzesto di Riedi Life TV. Seguite tutto il nostro network. H24riediLife.com Il Free Press, che sta andando molto bene. Quindi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, alle 21. E poi on demand quando vorrete. Grazie. A giovedì prossimo. A Rieti e in tutto il centro Italia. Esperienza e qualità da oltre 40 anni. Acqua di Fonte Cotturella. Dalla Fonte. Direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Big Mat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabricanti. Sognare, inventare, costruire. Tieni d'occhio la tua vista. Per la salute dei tuoi occhi, affidati a Ottica Serafini.